Stefano sa esattamente quello che vuole. Ti spinge fino alla fine. Quasi al limite delle proprie possibilità. Devi sempre fare di più. È dritto, non sbaglia mai un'indicazione, non è mai vago. È brutta perché c'è una cosa che si ferma lui. Dovebbe essere più che comunque gli sfugge un attimo la mamessa. Sa investigare a fondo le cose senza volersi mai negare anche il beneficio dell'intrattenimento. Entra Viola, primo colpo spalletta. Non fa le cose per piacere a nessuno. Molto bravo ad esaltare i nostri lavori e questo è il motivo per cui ho un piacere lavorare con lui. Una grande precisione, una ricerca della precisione, anche negli ambienti più rudi, anche negli ambienti più aspidi. C'è un'evoluzione stilistica notevole. Sembra soltanto pensare all'inquadratura che può fare nel posto che io ho arredato e trovato. Invece lui è totalmente attento a tutto quello che c'è là dentro. Allora intanto mi servono di più i giornali. La cosa strana è che c'è solo questo aperto sicuro. Non mi capacitavo di quanta attenzione mettesse Stefano nella recitazione nei campi lunghissimi. Stop, stop, aspetta. No, secondo me quella la devi regare. Stefano è un regista che chiede tantissimo. Molto spesso ti chiede una cosa che un secondo prima ti aveva detto che non fa, ma secondo me questa fa parte del grande regista. Ok, rifacciamo? La rifacciamo un attimo. Ok, la rifacciamo? Fa tutto in piano sequenza, quindi abbiamo un sacco sempre di variabili da affrontare. E' tutto uno stimolo. Serve che il sangue, messo all'ultimo secondo, prima della caduta, quando rigate, segua la gravità. Non è uno che vuole integrare con effetti visivi. Preferisce fare tutte le cose più realistiche. Sa muoversi come girerebbe un coordinatore santo. La macchina la sa muoverà a 360 gradi. Quell'attimo io lo leggo, capito? Quello è il dramma. Scene così bisogna curarle come se fosse appunto una coreografia di un balletto. E' cosciente che essendo noi una squadra, un team, andiamo tutti verso una stessa direzione. E stop, è perfetta.